Ciao a tutti ragazzi, sono Cinzia, la vostra fitness fitness trainer dal centro fitness SGT Sport nel cuore della cittadella dello sport di San Buceto. Da oggi non abbiamo più scuse, la WISP si allena in casa con te. Ciao a tutti, sono felicissima di essere ancora una volta qui con voi. Ricordatevi, tutti i giorni la WISP si allena a casa con te. Oggi il nostro obiettivo sono i glutei, 10 minuti circa di esercizi semplici ma efficaci e molto mirati, pronti sempre noi e il nostro tappetino. Andiamo con la musica. Andiamo in quadrupedia ragazzi, quindi le mani sono sotto le spalle, le ginocchia sotto il bacino. Cominciamo con degli slanci posteriori della gamba, vai, vai. Non aprire il bacino quando porti sulla gamba, spingi e contrai il gluteo. Vai. La fronte sempre al tappetino ragazzi, vai, vai. Quattro, tre, due, stop. Recupero, ci prepariamo con l'altra gamba, quindi se abbiamo lavorato a destra prepariamo la gamba sinistra. Sempre forte l'addome. Vado ragazzi, uno, due e spingo. Vai. Non aprire il bacino, non ruotarlo mai. La schiena è ferma. Addome forte. Se contrai l'addome, la schiena resta ferma. Vai. Vai. Forza. e stop. Prossimo esercizio. Sempre quadrupedia. Gamba distesa. Slanci in alto. Non ruotare mai il bacino. Vai. Veloci e piccoli. Distendi la punta del piede. Vai. Gluteo e bicipite femorale. Vai. Piccoli. e forti. Vai. 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 Ci siamo ragazzi. Pronti? Su. Stop. Vai. 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 Forza ragazze. Benissimo. Vai. Vai. Sono gli ultimi. Ci siamo. Stringi forte il gluteo. E ancora, ancora. So. 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 Ancora, ancora. Ancora. Vai. Bene. Ci siamo ragazzi. Quattro. Stop. Attenzione. Distendo la gamba. Faccio dei piccoli cerchi. Lenti e concentrati. Siamo pronti? Vado. Hop. Vai. So. Solleva. Solleva. E ruota. Come se il nostro alluce fosse una matita che disegna un cerchio su un foglio. Mantieni la gamba alta. Vai. 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 Bravissime. Mantieni. Buono. Ci siamo ragazzi. E cambio. Recupera sempre. Sciogli un po' i polsi. Visto che manteniamo la quadrupedia per molto tempo. Ok. Torno. E vado. Vai. Ruota. Hop. Hop. Vai. Vai. Alta la gamba. Sempre. Non inarcare la schiena. L'addome sempre attivo. Ombelico in. Verso la colonna. Vai. Hop. Hop. Bene. Fronte piatta. Spingi con le mani. Giù le spalle. Vai. Vai. Bravissimi. Ancora. Vai. Vai. E stop. Andiamo subito in decupito laterale. Anzi no ragazzi. Andiamo qui. Ok. Appoggiamo i piedi a terra. The bridge. Vai. Vai. Su. Vai. Sali. 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 Molto bene. E adesso ferma. E piccolo. Piccolo. Vai vai. Addome sempre forte ragazzi. Spalle a terra. aperte. Fronte. Al soffitto questa volta. Springi. Bene. Avvicino. Posiziono. Apro il ginocchio. Stacco. E spingo. Vai. So. So. Vai ancora. So. So. Benissimo. Vai. Ancora. Ancora. So. So. Piccolo. Vai. Vai. Ultime. Vai. Ci siamo ragazzi. E stop. Cambiamo gamba. Ok. Contra il gluteo. Ok. Contra il gluteo ogni volta. Piccolo. Aumento la contrazione. Sempre contratto il gluteo. Aumento solo la contrazione. Vai. Fortissimo sempre l'addome. Non dimenticarlo. Vai. So. So. Bravissimi. Vai. Vai. Ci siamo. Quattro. Vai. Stringi. Stringi forte. Vai. Vai. Sop. Manteniamo sempre la contrazione dei glutei. Solleviamo l'altra gamba in alto. Piede a martello. Perpendicolare al pavimento. Quattro. Ehi. Quattro. Tre. Due. Vado. Su. Stringi. 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 Vai. Ancora. Ancora. Vai. Vai. Non ti fermare. Non ti fermare. Vai. 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 Quattro. Cambio gamba. Nel minor tempo possibile ragazzi. Vado. So. 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 Bravissimi. Ci siamo ragazzi. E l'ultimo. Bene. Forza. Ehi. Ci siamo. E. Stop ragazzi. Bravi. Mantieni. Scendi lentamente. E sali. 3, 2, 1. Go. Round 3. 3, 2, 1. Go.